Giovanni Ferraro, 53 anni, campano, originario di Vica e Quenze, una lunga gavetta nel calcio ma anche qualche bella soddisfazione. Ultima in ordine di tempo, quella alla guida del Giuliano che, nello scorso campionato, ha guidato alla promozione dalla D alla C, dopo aver concluso al primo posto il cammino nel girone G della quarta serie. In pratica a Catania ci si augura che faccia subito il bis con i rossazzurri. Viene descritto come un uomo riservato, di poche parole, ma che sa ben gestire il gruppo, non ama lasciare spazio e sfogo alle individualità controproducenti. Ferraro è affezionato al 4-3-3, schema caro ai tifosi etnei, ma è in grado di gestire e mutare assetto alle sue squadre se le rose lo consentono e se le caratteristiche degli avversari lo consigliano. In campo si lavora sodo, si fatica per il compagno di squadra e per il gruppo, ripete spesso. È come dargli torto. Grazie. Grazie.